Giuseppe D'Erasmo, un operaio di 55 anni, morto ieri mentre era al lavoro in un deposito a Gravina in Puglia, va rincontrata a Graviglione. L'uomo dipendente di una società di ruvo di Puglia si era recato nel deposito a Gravina per prelevare alcuni ponteggi in ferro e lì, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato dopo il cedimento del braccio di una gru. Le verifiche tecniche dovranno accertare se il braccio si è crollato a causa del forte vento o a seguito di un cedimento dovuto ad usura o ad un guasto meccanico. Sull'ennesima morte bianca, la Procura di Bari ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero di turno Claudio Pinto, è affidata ai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi e per raccogliere le prime informazioni dai colleghi della vittima, utili a ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare l'eventuale irresponsabilità dei datori di lavoro, anche con riferimento alle norme sulla sicurezza. Grazie a tutti!